La Fiera Antiquaria spegne 56 candeline e festeggia l'importante traguardo con un'edizione speciale. Sabato primo e domenica 2 giugno ad Arezzo si rinnova l'appuntamento con la manifestazione che dal 1968, ininterrottamente, ogni mese in Piazza Grande, nelle vie del Centro Storico Cittadino, regala ad appassionati e addetti ai lavori il piacere della Truvai, grazie a centinaia di espositori impegnati a proporre i loro oggetti d'arte, mobili, gioielli, libri e ogni tipo di collezionismo. Per celebrare un compleanno così importante, la Fondazione Arezzo in Turo ha organizzato e coordinato alcuni appuntamenti collaterali. Nel chiostro della Biblioteca è il Refugio del Tempo, mostra collettiva di opere contemporanee realizzate dagli artisti dell'Associazione Culturale e Artefice, quest'anno dedicate a Giorgio Vasari. Nelle due giornate della Fiera Antiquaria si rinnova anche la terza edizione di Mosaic Art che vede protagonista l'arte del mosaico. In una festa che si rispetti poi non può mancare la musica, nel pomeriggio di sabato primo giugno a partire dalle 16.30, nella piazzetta San Michele si esibirà l'orchestra a plettro Città di Arezzo, quindi il palcoscenico passerà all'assemblea corale Angel Pop Core. Ma il pubblico della Fiera potrà anche ammirare e sperimentare la musica grazie a naturalmente pianoforte Ben Città. In via Bicchieraia 50 pianoforti colorati e condivisi, un'antecipazione del raffinatissimo festival che dal 17 al 21 luglio tornerà ad animare il borgo di Prato Vecchio. Infine, il primo e il 2 giugno ad Arezzo si rinnovano i Dandy Days, il singolare raduno italiano dei maestri di stile con uno scopo benefico. I fondi raccolti saranno donati all'Istituto Cittadino Casa Tevenin.